Con Lisa Vittozzi al Quirinale, incontro col Presidente della Repubblica, prima cosa, che emozione è stata? No, è sicuramente una bella emozione essere qui, essere riconosciuti come portatori in alto della bandiera italiana, è sempre una bella emozione, sono goduta di essere qui. Medaglia, lo sappiamo, nella stagione amminista a Pyongyang, dove hai fatto bene in tante gare, grandi finali di stagione, adesso obiettivi per il prossimo anno? Ma quest'anno è stata una stagione per me molto importante, quindi mi dà molta fiducia per il prossimo anno, spero di riconfermarmi a questi livelli, perché ci ho lavorato molto e quindi spero che possa essere una stagione come questa, anzi forse migliore. Sono state delle cose che non sono state positive per me, però ci provo e sono fiduciosa. Per esempio, cos'è che non è stato positivo? Ma ci sono delle gare che non sono state al 100% e ho fatto degli errori che forse non mi sono perdonata molto e ci lavorerò su questo, ho capito quali sono le mie lacune e ho cercato di lavorare su questo e magari il prossimo anno riconfermarmi. Senti, a Pyongyang, faccio un salto indietro, il tuo approccio all'Olimpiade, le molte attenzioni dell'Italia erano riservate a Dorotea Fiedel, che è più grande di te e sta sul circuito da molto più tempo. Come sei arrivata? Che emozione è stata all'Olimpiade? Pensavi fosse più emozionante? Perché non sei sembrata attesa per niente. Diciamo che sì, mi aspettavo che fosse qualcosa di più grande, da come me lo descrivevano, come quell'Olimpiade è sempre una grande emozione. Non ci sono mai stata, però ero molto tranquilla, forse avevo sì, tensione per le gare, però sono arrivata lì con la convinzione di vincere. Ci ho provato, è andata bene e male, non ho portato a casa forse una medaglia individuale che mi aspettavo per poco, ma sono comunque fiduciosa. Ci sono ancora le prossime Olimpiadi che posso fare il mio, ci troverò e comunque nel complesso è stata un'Olimpiade magnifica per me. Se guardi al futuro prossimo, le prossime stagioni, il primo sogno che è nella testa di Elisa Vittozzi, qual è la medaglia d'Antel Selva al Mondiale, la medaglia a Pechino, se devi scegliere? Se devo scegliere la medaglia a Pechino, però diciamo che sono comunque tre stagioni prima delle Olimpiadi che voglio fare bene, voglio arrivare a Pechino con i miei obiettivi e voglio portarli a casa.